A Venafro ieri sera il Consiglio Comunale Compatto ha votato la proposta di deliberazione della maggioranza che chiede l'immediato ripristino del punto di primo intervento presso l'ospedale Santissimo Rosario e il mantenimento del servizio di senologia dell'ospedale veneziale di Isernia. Licenziati velocemente a maggioranza con l'astensione dell'opposizione, i primi punti all'ordine del giorno relativi alla variazione di assestamento al bilancio finanziario di previsione 2018-2020 e all'estinzione anticipata di un mutuo contratto dall'ente con la Cassa Depositi e Prestiti è stata proprio quella sul servizio di emergenza, nell'ospedale cittadino la questione più rilevante e maggiormente dibattuta dall'assise civica di Palazzo Cimorelli. C'è stata una proposta presentata dal gruppo consigliare di maggioranza che ha raccolto e di questo sono evidentemente soddisfatto il consenso dell'intero Consiglio Comunale e anche dei consiglieri di minoranza presenti. La chiusura del primo punto di soccorso credo che sia un fatto grave e questo ci deve vedere uniti. Sono argomenti talmente importanti che attanagliano purtroppo la nostra città che i colori politici e le posizioni in Consiglio Comunale non devono entrarci. Da registrare la tensione sulla mozione presentata dai banchi dell'opposizione che proponeva di rafforzare la deliberazione con l'indicazione di una scadenza temporale decorsa la quale, senza che il punto di primo intervento fosse stato ripristinato, l'intero Consiglio Comunale si sarebbe dovuto dimettere. Un modo per mettere pressione agli organi preposti ed indurli a disporre il ripristino, hanno sottolineato dai banchi della minoranza. E proprio qui sta il punto. Chi può decidere sulla delicata questione, visto che non c'è ancora in regione un commissario ad acta per la sanità? L'out-out dovrebbe dunque essere indirizzato all'ASREM, che potrebbe sì disporre alla gognata riapertura, ma solo in via temporanea. Tuttavia l'azienda sanitaria non ha alcun interesse, né ovviamente alcuna competenza politica, a prendere in considerazione la minaccia di dimissioni di un'assise civica. È quanto rimarcato dal sindaco Ricci con l'assessore Valvona a sconfessare anche dal punto di vista politico la mozione della minoranza. Non è giusto che questa assise si assuma responsabilità per scelte fatte da altri politici che, in passato, hanno avallato i piani sanitari che hanno prodotto l'attuale situazione. Ha affermato, in un clima sempre più infuocato, non è passata neanche l'altra mozione della minoranza che proponeva la rinuncia all'indennità di carica degli amministratori comunali. Alla fine, la riflessione complessiva del sindaco sulla questione della salvaguardia del diritto alla salute. Qui c'è un diritto alla salute ed un'esplicazione di questo diritto costituzionale che deve essere assolutamente ripensato da tutti i punti di vista, dal punto di vista della programmazione sanitaria che compete alla Regione, o meglio al Commissario d'Acta, quando arriverà. Alla legislazione nazionale il Regolamento Balduzzi va modificato. Mi fa piacere, ho letto che il Presidente Toma, se diventerà Commissario d'Acta, si farà portavoce di queste istanze. È fondamentale ripensare tutto, altrimenti in questa Regione, dove già si nasce poco, finirà con il morirsi sempre di più. Grazie.